guidare con la guida a destra non ha prezzo roba guarda veramente una cosa non è per niente facile ecco una strada tipica di ma è l'isola delle seiscelle non c'è nemmeno guardate guarderei e sotto non c'è niente sicché chi sbaglia va in buca però guardate l'allorama va bene vai comunque non è facile hasta la vista